durante il rientro ci fermiamo a valden il lago sul lago e scopriamo un posto meraviglioso che chi se lo sarebbe mai immaginato ma la carinzia ecco perché dicono che la carinzia è stupenda ma è evidente guarda che bello il lago è proprio bello 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 penso che padano sia a modo ore che a vela e io ho messo i piedi nell'acqua e si sta pure bene penso si possa fare pure il bagno veramente un posto bello la carinzia nel lago orsi watersea padre dei ciclisti è perché tutti i ciclisti dei locali negozi stupendi una piccola perla di riro carino si sacco di bella gente e compro un tubo tubo qui d'acqua abbiamo fatto anche la pipì gratis stanno pure delle belle cartorie qualche ferrarina che mossa questo può essere un cliente per il carino quello penso sia al municipio lo so adesso cambiano orribile qui in mezzo però architettura è questa qui c'è un giardino dove aveva mangiato i manini proprio davanti al lago chiaramente non bisogna dimenticare che siamo a 30 chilometri dall'italia per cui ci sono un sacco italiani poi ci stanno i giochi per bambini grandi piccoli una specie di castello meraviglioso e poi ci stanno i giochi pure per bambini grandi e vedo uno che arriva che si diverte come un matto ciao gnappo com'è ciao